FEDERICA Ciao a tutti, sono Elisa, sono una volontaria dell'osilipo di Massaciuccoli e sono una volontaria di questo progetto LIFE del Pratino della Toscana. Ciao ragazzi, mi chiamo Federica e faccio parte del corpo di solidarietà europeo. Un'iniziativa per tutti i ragazzi dai 18 ai 30 anni, offre tantissimi progetti in tutta Europa. Ho deciso di prendere parte a questo progetto perché mi è sembrato da subito molto interessante la possibilità di iniziare a fare qualcosa di concreto. Sono un volontario della sezione LIFE di Milano ma non solo perché sono anche il coordinatore del progetto sulla Ciconia. Conoci a cerca del progetto LIFE hace unos mesi e decidi inscribirmi perché pensé che era una opportunità molto buona, vada a trasmitire al resto della società il valore dell'educazione ambientale. Estamos oggi qui nel Viver da Marca, un sito dove facciamo propagazione di specie autotones. Oggi stiamo a fare triage di sementi. Mi trovo a Torino, in un giardino pubblico che si affaccia sul Po. Stiamo effettuando un'operazione di pulizia delle sponde del fiume e dei tanti rifiuti che ogni giorno vengono abbandonati nel giardino. Ci occupiamo di salvaguardia della vifauna, di protezione dell'ambiente e quindi questo progetto rientra in questo ambito. Ognuno con piccole azioni e nell'attività di tutti i giorni può cercare di dare il suo contributo, cambiare la mentalità. Per questo spero che sia un'esperienza buona e consiglio a tutti che tutti possano partecipare a progetti di questo tipo. Penso sia una bella opportunità per tutti, quindi speriamo vada bene per tutto l'anno e forza natura sempre! Grazie per la visione!